Sono iniziati gli interventi di taglio dell'erba nei corsi d'acqua nella cintura sud-ovest della città di Lucca da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Esattamente si tratta di un intervento sul raggio piuttosto ampio per oltre 30 chilometri di canali che verrà poi ripetuto a settembre prima dell'arrivo della brutta stagione. Il piano dei lavori di manutenzione ordinaria che il consorzio avviato sui corsi d'acqua è ampio e articolato in particolare nei quartieri di San Concordio, Pontetetto, Sorbano e Sant'Anna e paesi limitrofi. Opere di prevenzione finanziate con il contributo di Bonifica richiesto ai consorziati che mirano a mantenere in perfette condizioni l'intero reticolo idraulico. Lo sfalcio dell'erba e altri lavori permettono inoltre di verificare lo stato degli argini. Ci sono degli smottamenti oppure se ci sono come già successo in alcune zone buche di animali oppure danneggiamenti da ugolati specialmente cinghiali che in questo periodo stanno devastando parecchi corsi d'acqua.